Colpo a Strasser, è uno scherzo, però insomma Strasser lo guarda abbastanza basito, mettiamola così. Poi Ibrahimovic va verso Ronaldinho e con lui ha un atteggiamento un po' più affettuoso. Ecco qui, riapprezziamo il gesto. Il gesto, non so Strasser quanto lo può apprezzare, pochino direi. Dalla faccia direi poco, se non riusciamo a leggere sulle lacrime, dice boh, va bene. Berlusconi, che si era espresso con una battuta dopo l'arbitraggio di Russo sabato sera a Cesena.